Il cantatore americano David Cook, vincitore della settima edizione di American Idol, ha appena pubblicato il suo secondo disco, This Loud Morning. Visto che con il suo primo album aveva ottenuto il disco di platino, c'è molta attesa per quello nuovo. In questo, in realtà, e in tutti gli album che ho fatto, cerco sempre di migliorarmi. L'album precedente è stato un grande punto di partenza, per fortuna. La sfortuna è che superare un album di debutto che ha venduto un milione e trecentomila copie non è facile, quindi il miglioramento lo cerco ora piuttosto nella musica e nei testi. Questa volta il musicista rock ci ha messo più tempo rispetto al suo primo disco, per cui aveva impiegato solo quattro mesi, dall'idea iniziale al prodotto finito. Non sono sicuro di quale processo preferisca. So che sono sempre stato uno molto istintivo quando si tratta di musica, quindi sedermi e lavorare per un anno e mezzo in modo così dettagliato, per me, è come stare seduto due giorni a decidere con quale tamburo della batteria e cominciare una certa canzone. Non ero esattamente abituato, ma ho imparato molto su me stesso, lavorando così, e sono felice di aver intrapreso questo viaggio professionale. Il risultato finale è un disco di cui sono molto fiero, molto. Il nuovo disco di David Cook esce in questi giorni.